Stamattina con un po' di tristezza e un po' di malinconia ho letto che dovremmo dire addio alle nostre belle cassette per le lettere, per imbucare le lettere, quelle rosse che si trovano in tutte le città italiane. Ci sono legata molto sentimentalmente perché da sempre, già da quando ero ragazzina, mi piaceva spedire lettere e cartoline anche alle persone che abitavano nella mia città. E poi, naturalmente, vivendo all'estero non facevo uso specifico delle cassette delle lettere italiane, però in giro per il mondo andavo a spedire le lettere. Comunque, vederle in città, quelle antiche, divise in due sezioni, città e Italia, non mi ricordo cosa ci sia scritto, mi dava un senso di sicurezza, un senso di tranquillità, un senso di ecco sono a casa, un po' come le cabine telefoniche che, ahimè, invece quelle si sono scomparsi. Quindi, non mi ricordo dove, ho letto addio alle vecchie cassette delle lettere e verranno sostituite da queste nuove cassette delle lettere intelligenti che dicono al postino quando ci sono le lettere dentro, che dicono anche che tempo fa e chissà cos'altro. Poi, cercando così in rete, sono capitata su un altro articolo intitolato, esattamente allo stesso modo, Addio alle vecchie cassette postali diventeranno smart e digitali. Sono andata a vedere la data ed era il settembre del 2022, quindi più di un anno fa. Quindi, mi è venuto da ridere perché in questo articolo del 2022 si diceva che entro l'anno ci sarebbero state, non so quanta percentuale in tutta Italia, di cassette postali rosse tolte e sostituite da quelle superintelligenti. E quindi, invece, adesso l'ANSA pubblica la notizia che verranno installate le caselle. Quindi, in un anno non si è fatto assolutamente niente. Allora, dopo l'inizio della giornata un po' malinconico, ho detto, oddio, mi portano via anche le cassette delle lettere, mi sono rilassata e mi sono ricordata. E vabbè, ce ne vuole di tempo prima che facciano realmente qualcosa. Cristina, rilassati che ancora per molto tempo ti potrai godere le tue belle cassette delle lettere che già da due anni ci provano e dire che le devono sostituire con queste intelligenti. Per ore di intelligente non so che cosa ci sia in Italia, sicuramente non le cassette delle lettere. E comunque a me le cassette delle lettere piacciono non intelligenti. Preferisco che l'intelligenza risieda dentro le lettere, dentro le cartoline, dentro le missive che la gente in buca ci mette dentro. Comunque, se queste cose intelligenti le devono fare, tiro un sospiro di sollievo perché ancora me le posso godere. Infatti domani per prima cosa vado e mi fotografo la mia cassetta delle lettere rosse prima che diventi veramente una rarità da museo.